La ragazzone aveva un testo un po' difficile da imparare per noi ma è soprattutto un po' difficile da capire per voi e quindi? e quindi mi ha chiesto ve la spiegiamo mi ha chiesto aiuto il nostro amico Giuseppe Guarino che farà traduttore ufficiale esatto, questo brano si chiama Hurricane colpi di pistola tipo con la bar che trafetti va dentro del baratoio vede il barista in una posta nel sangue grida Dio Dio, li hanno uccisi tutti lo misero in prigione l'autentico è l'esame, l'unico del bar il campione del mondo parte vede tra colpi di terra e un altro uomo, un nome bello muoversi al tono in modo misterioso non sono stato io, dicevo, inzando le mani stiamo solo cercando di riguare il caso spero che tu capiscano e ho visto uscire, così concludendo meglio che uno di noi chiami la polizia e così Fabri chiamano la polizia e arriva su una scena con le serucinose raffeggiate nella carta nord del New Jersey intanto lontano, in un'altra parte della città Rubin Carpere e un pari di amici vengono facendo un giro in auto sfidante numero uno del titolo di Disney Day non aveva nessuna idea del guaio in cui si stava cacciando quando un poliziato lo fa ascoltare al lato della strada e proprio come una volta prima e una volta prima ancora e questo è il modo di vivere le cose e se sei negro è meglio che non ti faccia nemmeno vedere le strade a meno che tu non voglia attirare per forza la canzone qui come la storia del l yanguri che erano aparecchi questa bella thern כל Eloy Zarelliunes ha un tempo da Phane jeżeli sarebbe dovuto diventare notstream e del consegne ma tra processi ahah 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 Rubin aveva potuto far fuori un uomo con solo uno, ma non gli era mai piaciuto parlare troppo di questo, non è il tuo lavoro, diceva, lo faccio per i soldi, quando sarà finito viene troppo in noce dalla mia strada, su qualche bandiso della natura, dove notano branchi di carote, l'aria liquida, dove si può fare una corsa di un cavallo lungo sentiero, ma poi l'hanno messo in prigione, dove cercano di trasformare un topo in un uomo, provocando un processato con l'incarno, l'accusa fu omicidio di primo grado, il primo ha determinato che testimoniò, quello, bello, e in quel momento squacciatamente, e tutti i giornali si accettarono a pesce sulla notizia, come era buono, come vuole la vita di un uomo verso le mani di gente così fuori, mi vedevo così palesemente in strato, e sono perguagniato di vivere in un paese dove la giustizia è solo il giorno con lo visto in materiale, sì, ma anche in coro che sarebbe venuto essere il giorno del mondo ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.